Farmacie comunali. 10 farmacie sul territorio a garantire importanti servizi e sempre attente ai bisogni dei cittadini. Ecco i principali servizi che trovi nelle farmacie comunali. Autoanalisi, pannello lipidico, colesterolo, trigliceridi, telemedicina, oltrepressorio, oltrecardiaco, elettrocardiogramma, laboratorio di preparazione galenica, cabina e trattamenti estetici viso, misurazione massa magra e massa grassa, intolleranze alimentari. Informati nella tua farmacia di fiducia anche su tutti gli altri servizi. Ricorda che presso tutte le farmacie comunali troverai lo sportello CUP per prenotare le visite specialistiche. Grazie per la visione!